Allora, buonasera a tutti. Commentiamo la partita di oggi, una partita sofferta, ma lo si sapeva insomma perché a Bergamo in genere noi perdiamo o al massimo pareggiamo. Quest'anno abbiamo vinto ed è già una grande cosa. Commentiamo più che la partita di oggi tutto l'andamento di questa prima parte di stagione, prima della pausa. Una prima parte di stagione dove il voto non può essere che mediocre. Mediocre per diversi motivi. Mediocre per i risultati. Cinque sconfitte in 15 partite sono veramente tante, troppe. Non è pensabile poter competere per vincere un campionato avendo già dopo 15 partite cinque sconfitte sul gruppone. Malissimo il rendimento della squadra, soprattutto lontano da San Siro. Abbiamo perso ben quattro volte e comunque abbiamo fatto fatica anche nelle volte che abbiamo vinto. Tipo Firenze, tipo oggi, tipo in casa del Lecce. L'unica sconfitta che purtroppo, secondo me, condiziona questa prima parte del campionato è sicuramente quello con la Roma. A San Siro per colpa di di un palo della luce che è stato messo lì da Inzaghi, non so per quale motivo, quando questo ormai era un ex portiere. A parte questo, partite negative spesso fuori casa, una marea di golli incassati. Stiamo a 23 golli incassati in 15 partite. L'anno scorso ne incassammo 31 in tutto il campionato. Stiamo andando ad una media clamorosa. Ripeto, la maggior parte dei gol presi fuori casa. Inzaghi parla di calendario. Allora, sul calendario non gli do totalmente torto. Per due motivi. Prima cosa perché l'Inter ha giocato, in queste prime 15 partite, praticamente tutte le trasferte con le scuole che stanno dalla parte sinistra della classifica e tutte le partite in casa con le scuole che stanno a destra. Tranne la partita con la Roma. Milan giocavano in casa loro, anche se in realtà si gioca a San Siro, però la maggior parte dei tifosi, lo stadio era pieno dei tifosi milanisti. Juventus, Lazio, Atalanta, Udinese, Sassuolo, Fiorentina. Cioè tutte le squadre che in linea di massima quando giochi fuori casa, se inizi il campionato, la prima cosa che vai a vedere è quando ce l'ho queste partite sgorbutiche, a prescindere dalla forza della squadra avversaria. Comunque queste squadre che anche se in mezzo alla classifica sono pericolose. Mentre abbiamo giocato in casa contro Sampdoria, Cremonese, La Spezia e insomma queste squadre qui che sono invece nei bassi fondi. Quindi sicuramente dopo la sosta avremo un calendario migliore, però dobbiamo passare dalla vittoria con il Napoli. Certo che se vinciamo con il Napoli il discorso cambia. Torniamo a meno 8. Sicuramente saremo incollate le altre squadre, Milan, Juventus e Lazio, più o meno. Atalanta e Roma si stanno già nel frattempo staccando. Quindi possiamo fare un altro discorso anche perché da lì in poi poi iniziano una serie di partite fino alla partita contro la Juventus che è in programma tra l'altro dopo la trasferta di Oporto. Con squadre che stanno nella zona molto bassa della classifica e quindi molti di questi le giochiamo anche a San Siro tra l'altro. Quindi direi che la situazione potrebbe migliorare. Ma perché l'Inter possa competere a prescindere dal calendario deve tornare Lukaku. Brozovic ormai è pronto quindi sarà pronto dopo la sosta ma deve tornare Lukaku. Senza Lukaku non possiamo fare nulla. Con tutto il rispetto per Zeko che sta tirando avanti la baracca ma non può, non possiamo contare su uno che ha quasi 40 anni per gestire un campionato. L'abbiamo visto lo scorso anno che è successo quando Zeko è calato. Non avevamo sostituti in grado di farlo rifiatare. Sanchez una carta fatta, Correa era rotto. Cioè insomma in pratica siamo rimasti senza attaccanti da febbraio in poi. Il calo dell'Inter l'anno scorso guarda caso è legato proprio alla discesa di Zeko da metà campionato in poi. Quindi non possiamo contare su Zeko per giocare su quattro fronti. Quattro perché al ritorno alla ripresa del campionato i fronti saranno quattro. La finale della Supercoppa d'Italia, la Coppa Italia che subentra è il campionato e poi andiamo sulla Champions League con la doppia sfida col Porto e forse se riusciamo a passare il turno successivamente anche un quarto di finale. Non possiamo assolutamente pensare di andare avanti con questi giocatori, soprattutto con quattro difensori contati e quattro attaccanti tra l'altro ridotti a tre, anzi a due e mezzo perché Correa praticamente come se non ci fosse. Quindi deve assolutamente tornare Lukaku. Altrimenti spiarniamo di cose che non esistono. Allora o torna Lukaku al 100% e allora ci giochiamo tutto, altrimenti lasciamo perdere. Il campionato è finito qui, la Coppa Italia è finita qui, il Coppa campione. Lasciamo perdere perché non esiste. La differenza la doveva fare Lukaku, non l'ha fatta Lukaku. Ecco, ci riagganciamo al discorso delle trasferte che ha detto Inzaghi. Perché l'Inter va in difficoltà in trasferta? Perché non ha un giocatore veloce lì davanti che possa sfruttare il gioco di rimessa che viene fuori da partite come questa con l'Atalanta, con la Fiorentina, con la Juens, eccetera. Perché Zeko è molto bravo, soprattutto quando gioca in casa a smistare i palloni, a far salire la squadra, ma fuori casa tendenzialmente le squadre ti aggrediscono. Quando le squadre ti aggrediscono, Zeko poi manca di lucidità, manca di passo. Abbiamo visto la partita con la Juventus, sono state due ripartenze con palla rubata una volta da Barella, una volta a Mkhitaryan, hanno dato la palla a Zeko e Zeko non per colpa sua, si è inchiodato, è stato ripreso dai difensori avversari da Brem. Perché? Perché lui non è quel tipo di giocatore. Lui è un giocatore che sa giocare molto bene, ma deve giocare... cioè la squadra deve stare molto avanzata, allora lui riesce a smistare i palloni e a farti la differenza anche nel breve, nello stretto, perché è molto bravo anche nello spizzare il pallone. Ma quando bisogna partire e andare di rimessa, ecco lì che c'è mancato Lukaku. Per questo lui diceva delle trasferte, perché quando le squadre ti aggrediscono, vai in difficoltà se non hai un punto di riferimento davanti. Fermo restando che, a prescindere dal discorso di Lukaku lì davanti, è una sua responsabilità. Ma due punti, due punti sono una responsabilità di Inzaghi. Uno, uno, dal punto di vista morale, questa squadra va in difficoltà al primo passo falso. Subiamo gol, andiamo in difficoltà, andiamo in barca. E non è possibile una cosa del genere. Seconda cosa, le marcature sui calci da fermo. Quest'anno sono una tragedia, ogni volta che si batte un calcio d'angolo ci fanno gol o un calcio di punizione dal limite. Non è pensabile una cosa del genere. Dietro c'è qualcosa che non va. Ma non negli uomini, negli uomini adesso non ne parliamo, ma nelle marcature. Negli uomini il problema è De Vrij, ma questo lo era anche l'anno scorso. Strongsong non voleva prendere neanche Acerbi, che poi tra l'altro, stiamo parlando di un fenomeno Acerbi. Akanji, che era il giocatore da prendere, gioca titolare al City. Qui, noi che cosa ce ne facciamo di due giocatori De Vrij e Acerbi, uno che ha 40 anni e quell'altro finito e strafinito. Siamo in difficoltà anche per questo. Dietro, assolutamente. Quindi, problema di posizionamento delle marcature, soprattutto sui calci da fermo, dove subiamo una marea di gol. Problema con gli uomini, perché gli uomini non sono adeguati. Bisognerebbe passare a una difesa a quattro, ma Inzaghi non la sa fare. C'è da dire anche che Danfries quest'anno veramente nullo. Null Danfries è veramente qualcosa di assurdo quest'anno. Comunque, prima parte da 5. Coppa dei campioni, Champions League è andata bene, perché siamo qualificati in un giorno che io non pensavo di passare, ma in campionato troppo in ritardo, troppo in ritardo sul Napoli. Abbiamo fatto troppa fatica, troppi gol subiti. La squadra non è brillante come l'anno scorso. C'è qualcosa che non va. Vediamo se durante questa sosta riusciremo a ritrovare la condizione atletica e se qualcuno si aggregerà a questa squadra, perché non possiamo continuare a giocare sempre con gli stessi undici. Questo è ovvio. Ci siamo riusciti nella prima parte di stagione con due competizioni e quando ne diventeranno quattro sarà qualcosa di allucinante, quindi andando tra l'altro poi verso il caldo. Quindi assolutamente bisogna mettere mano al mercato e credo che non verrà fatto, perché finché rimarranno gli zanghi per me non sarà fatto nulla, assolutamente nulla. Speriamo che riusciremo a ritrovare la condizione fisica di Lukaku e rimetterlo dentro a questa squadra. A quel punto parleremo sicuramente di una squadra più competitiva, come dire, su quattro fronti. Il Napoli in questo momento sembra lontano, però dipenderà tutto da Inter-Napoli, perché è chiaro che se l'Inter dovesse perdere quella partita saremmo automaticamente fuori. Allo stesso tempo però se dovesse vincere e si riporta meno 8, con Lukaku, ripeto, vedendo anche il calendario da lì fino a marzo, non è detto che l'Inter non possa macinare tanti punti. Fondamentalmente però le due sconfitte che più fanno male sono sicuramente in termini di punteggio quello con Milan e Juventus, dove secondo me col Milan meritavamo il pareggio anche con la Juventus, però abbiamo perso, va bene. Quelle più gravi però sono quelle con l'Udinese e la Roma, perché l'Udinese e la Roma stavamo vincendo e abbiamo perso per un errore individuale del nostro portiere scarso, che sicuramente ci farà rimbondere pure la Coppa Italia, perché giocherà in Coppa Italia e già prendiamola come persa, perché parerà con l'asino. E' la partita di Udine, dove vincevamo 1-0 e dopo negli ultimi minuti siamo andati in barca normalmente per due papere di quella merdaccia. Comunque, andiamo in vacanza, vedremo il 4 con l'Inter Napoli che sarà subito decisivo per il campionato. O la va o la spacca, altrimenti inizieremo a concentrarsi sulle altre competizioni, ma ripeto, se non rientra Lukaku c'è poco da fare. Buona serata a tutti!